È uno spazio interamente rinnovato, ogni stagione vengono rinnovate zone ampliate e attrezzate per ogni tipologia di utenza. Durante la settimana noi manteniamo corsi di nuoto, adulti, bambini, fitness, con un palinzesto più o meno omologo alla parte invernale. Gli orari giornalieri sono dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 per gli abbonati o dalle 8 per chi fa ingresso singolo, fino alle 20 la sera, dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica l'apertura è dalle 9 alle 19 per tutti, fino al 31 agosto. Abbiamo i centri estivi che vanno in tutte le fasce, mattina, mattina con pranzo, pomeridiana e tutto il giorno con il personale specializzato sia come istruttore che come animazione. Nel fine settimana invece il centro nuoto Valdarno si trasforma, prende più l'impronta prettamente ludica, con animazione, schiuma party, la mascotte, sia per bambini che per adulti, con corsi di acqua gym gratuiti ad utilizzo di chiunque paghi il biglietto d'ingresso. Ci sono zone riservate come i gazebi a piccoli gruppi che possono essere prenotati in modo da trovare sempre posto in qualsiasi ora della giornata, mentre ci sono ombrelloni e sedie sempre a disposizione e gli sdrai su richiesta al momento dell'ingresso. Abbiamo appunto due campi, uno da beach soccer e uno da beach volley, utilizzabili da chi utilizza la piscina ma anche prenotabili solamente per giocare la partita di beach volley o di beach soccer, quel che si vuole. Spesso viene utilizzato e abbinato come momento di socialità, fanno un aperitivo magari al bar prima o dopo al nostro chioschito che è stato interamente rinnovato e dopo si cimentano nel beach volley.